Sono scioccato, scioccato, perché veramente guardare il Milan fare la parte del Napoli di quest'anno e il Napoli la parte di qualsiasi provinciale sbranata dall'avversario è stato stranissimo. Poi Milan sontuoso, Milan veramente clamoroso che fa una partita pazzesca, perché andare a Napoli e vincere in questo modo giocando così sarebbe stato assurdo in qualsiasi stagione, ma farlo quest'anno è un qualcosa che va oltre anche l'assurdo, quindi Milan veramente dà applausi a scena aperta, ma Napoli veramente, veramente non in giornata. E occhio, perché parafrasando Boscov, è vero, è meglio perdere una partita 4-0 che 4-1-0, però è anche vero che perdere anche solo una partita 4-0 ha una ricaduta psicologica, è direi importante, non tanto in campionato, perché anche se il Napoli da qua a fine anno le perdesse tutte vincerebbe comunque. Ma in Champions, fra dieci giorni, proprio contro questo Milan, c'è una doppia sfida cruciale, una doppia sfida che vale le semifinali di Champions, dove ci sarà o l'Inter o il Benfica, quindi non il Bayern o il Barça di Guardiola, squadre tra virgolette alla portata, quindi è una sfida che vale veramente tanto. E il Napoli ci arriva con la paura di questo Milan, che è andato al Maradona e che li ha letteralmente proprio presi abbastonate. E a proposito della Champions, secondo me il Milan ha sentito molto la felicità, o meglio ha risentito molto in positivo della felicità dei tifosi del Napoli al momento del sorteggio, perché i napoletani, quando hanno estratto quella pallina neon con scritto AC Milan, hanno tutti esultato come se fossero già in finale. Ecco, quello lì è stato un errore pesantissimo che ha caricato il Milan, che questa sera si è sfogato, anche perché serve sempre rispetto in Europa, soprattutto quando di fronte hai una squadra che ha 7 Champions in Bacheca. Quindi, comunque oggi una gara clamorosa, ma penso che il risultato così netto parli da sé. Un Napoli che non è mai stato veramente in partita, un Milan clamoroso, un Milan che torna a 4 dietro e un Milan che rivalorizza ogni singolo calciatore. La difesa 3 è stato un buon tampone per uscire da una situazione complicatissima, ma tornando a 4 si è visto veramente il vecchio Milan, e questo è anche di più del vecchio Milan. Un Milan così, contro queste squadre, io non l'avevo mai visto da quando c'è Pioli. mai. Oggi veramente assurdo, gioca benissimo. Benna Sertre è quartista, gioca molto bene la coppia Tonali-Krunic, gioca la grande Ebrahim, gioca splendidamente. Ma, ragazzi, che ve lo dico a fare? Leao gioca bene la difesa, gioca bene Magnan che dà sicurezza. È un Milan veramente da incorniciare. Un Milan perfetto la apre Leao. Con che gol apre Leao? Raddoppia poi il Milan. Ragazzi, è una partita che è tutta in discesa. E poi, sale Meckerts, che è un giocatore che, lo sapete, a me non piace per niente, ma che fa un gol della Madonna e che ne sfiora un altro altrettanto bello. Quindi, veramente, una partita, la partita perfetta. Perfetta per il Milan, una partita da dimenticare per il Napoli. Vi ripeto, lo scudetto è chiuso, quindi poche chiacchiere. Il Napoli l'aveva già vinto e l'ha vinto. Non cambia niente. Ma la Champions, ecco, questa è una partita che dirà molto anche, secondo me, sulla Champions. Perché il Napoli, guardando come ha giocato quest'anno, guardando che ha annientato tutti, dal Liverpool alla Juventus, alla Roma, al Milan stesso, all'andata, pur non giocando bene. Però era stato un Napoli cattivo, cinico e compatto dietro. Oggi è un Napoli che si è squagliato, quindi guardando veramente come è finita il ritorno contro il Milan. Io fossi del Napoli, avrei paura, sinceramente, a riaffrontarli fra neanche dieci giorni. Discorso inverso per il Milan, che invece riacquisisce quella fiducia che da febbraio a oggi, o meglio da gennaio a oggi, aveva un po' perso, nonostante delle partite positive anche dopo quel momento di blackout totale. Ora Milan, che si porta terzo da solo in classifica, contro sorpassa. La Roma sorpassa anche l'Inter. Le spedisce al momento, diciamo, quarte, quinte, fuori, o appena dentro, la zona Champions. Ma mamma mia! Questa giornata è stata pazzesca. Questa partita è stata pazzesca. e non ho parole, quindi penso di avervi detto tutto. È stato un Napoli comunque negativo. Da Meret fino agli attaccanti. La difesa ha vissuto veramente una giornataccia. Leao su Rachmani, sul terzo gol, ne è stato l'emblema. Lo ha mandato al bar. È un crollo, sì, ma è un crollo molto, molto pesante. E invito ora voi a farmi sapere che cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi e lasciate anche tanti like qui sotto. Un salutone e a domani. Ciao!